Nel febbraio 2019, tramite un question time alla Camera dei Deputati, ho chiesto e ottenuto l'attivazione di un tavolo ministeriale con la Regione e i comuni di Palermo, Catania e Messina, che sono i comuni purtroppo più indietro in termini di raccolta differenziata. Il risultato di questo tavolo è stato lo sblocco di 18,5 milioni di euro che pensate erano fermi dal 2011 e che saranno destinati proprie iniziative per l'implementazione e l'incremento della raccolta differenziata in questi tre comuni. Peraltro per Palermo saranno destinati ben 9 milioni di euro, cui si sommeranno altri 4 milioni di euro della delibera CIP 69 2009, per i quali abbiamo ottenuto l'ulvia libera proprio nelle scorse settimane. Si tratta quindi, per la nostra città, di un tesoretto di 13 milioni di euro che serviranno a creare nuovi centri comuni di raccolta e estendere il porta a porta in altri quartieri. È un'occasione unica che non possiamo perdere, già abbiamo avuto delle interlocuzioni col Comune e con la RAP per elaborare un piano di lavoro, per finalmente portare la nostra città a standard europei che aspettiamo da fin troppo tempo.